Ieri la manifestazione dell'8 marzo in favore appunto dei diritti delle donne, oggi voi siete qui perché? Noi siamo qui perché ieri alcune donne hanno esercitato il diritto di manifestare, quindi ieri nell'8 marzo, giornata internazionale della donna, sono scese in piazza per appunto esercitare il diritto di protestare contro la violenza, per una quindi anche parità di genere richiesta, quindi contro le discriminazioni, contro appunto tutte quelle forme di disparità sui luoghi di lavoro che le donne hanno, così come anche voglio dire in famiglia, ma ovunque. Quindi legittimamente hanno manifestato, però ad ogni diritto corrisponde anche un dovere, quindi se abbiamo il diritto di manifestare abbiamo anche il dovere di mantenere pulita la nostra città. Quindi ci rivolgiamo alle giovani generazioni che sicuramente hanno affisso anche nei posti dove c'è di vieto di affissione, come si può notare appunto i manifesti, ma anche con delle bombolette spray hanno imbrattato i muri. Già a questo, diciamo, degrado un po' di questa città dove appunto i muri sono sporchi, noi vogliamo dire che si può tranquillamente manifestare, però bisogna anche mantenere pulita la nostra città. E quindi noi oggi, dirette al domani, un'associazione impegnata da sempre appunto sulle politiche di genere, con una delegazione, quindi con il direttivo e la portavoce, che sono io, simbolicamente vogliamo appunto dimostrare che dobbiamo tenere pulita questa città e quindi siamo venute qui nella strada maggiormente appunto imbrattata dal simbolo appunto dell'8 marzo a pulire appunto la nostra strada e quindi le nostre città.